La quarta edizione di Friuli Future Forum si titola Ripartire. Ripartire significa rimetterci in moto, ma significa anche condividere, suddividere le responsabilità. Il commercio di Udine che fin dall'inizio ha promosso il Friuli Future Forum e questo forum internazionale dedicato al futuro, ne ospita la quarta edizione. E dalle nuove povertà al lavoro, dalla nuova agricoltura dove va l'università, dove vanno le imprese, l'innovazione, la ricerca, la digitalizzazione, e alcuni degli aspetti che segnano, stanno segnando il cambiamento del mondo, questa fase di transizione che stiamo attraversando e di cui siamo protagonisti, saranno al centro di un dibattito che per cinque giorni animerà mattina e pomeriggio le sale della Camera di Commercio di Udine. La quarta edizione di Future Forum ospita esperti, studiosi, docenti universitari, imprenditori che stanno segnando e partecipano comunque alla produzione di futuro. Vorrei segnalare tra questi Subirazzi, il grande sociologo di Barcellona, amico di Bauman, che tra l'altro nel primo incontro di quella giornata proprio anche a Bauman renderà omaggio. Bauman è stato il nostro ultimo ospite della terza edizione del Friuli Forum nel 2016. Ma tra gli ospiti di questa quarta edizione c'è anche Edgar Sharif, che è il teorizzatore delle nuove povertà e quindi è uno dei fenomeni più significativi del nostro tempo e anche purtroppo in grande espansione nel nostro paese. Tito Boeri, ci sarà il presidente della prima commissione Bilancio Boccia, ma ci sarà anche Rainer, che è il consulente dei governi inglesi per la Brexit e con lui alcuni esperti come l'ex ambasciatore italiano Lona Washington, Vento, si discuterà di come sta andando e dove sta andando il mondo con alcuni dei maggiori esperti.